L'Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge che prevede i primi aiuti in favore delle aziende agricole del territorio siciliano. La Regione stanzierà 400.000 euro in favore delle imprese agricole che esercitano attività di allevamento operanti in Sicilia e che praticano la transumanza intraregionale dei bovini a copertura dei costi sostenuti per l'esecuzione degli esami di laboratorio e per le spese veterinarie.